Brandine senza materassi, arredi poveri, anfore nelle quali avevano trovato rifugio ratti e arnesi da lavoro e la stanza degli schiavi ricostruita dopo 2000 anni a Pompei. Un ambiente ritrovato nella villa romana di Civita Giuliana, circa 600 metri dalle mura dell'antica città ai piedi del Vesuvio e l'arredo di una stanza assegnata presumibilmente agli schiavi. Sembra una fotografia che denuncia una situazione di precarietà e subalternità. Tuttavia si tratta di un'immagine di quasi 2000 anni fa realizzata con la tecnica dei calchi esistente solo a Pompei ed intorni materiali quali mobili e tessuti nonché corpi di vittime dell'eruzione del 79 d.C. sono stati coperti dalla nube piroclastica, divenuta poi terreno solido mentre la materia organica decomposta ha lasciato un vuoto nel terreno un'impronta che riempita di gesso ha rivelato la sua forma originaria. Quanto ricostruito conferma la necessità di proseguire la ricerca scientifica in quel luogo che grazie all'opera della magistratura dei Carabinieri è stato strappato al saccheggio e al traffico illecito di beni archeologici per raccontare momenti notevoli della vita quotidiana delle antichità, ha affermato il ministro della cultura Gennaro San Giuliano. Quella che si sta apprendendo sulle condizioni materiali e sull'organizzazione sociale dell'epoca apre nuovi orizzonti agli studi storici e archeologici, Pompei rappresenta un unicum che tutto il mondo ci invidia. Conclusa l'operazione Grande Pompei, ha ribadito San Giuliano, progettiamo nuove iniziative e nuovi finanziamenti per proseguire nella ricerca e nella tutela. L'esplorazione archeologica della villa di Civita Giuliana, già oggetto di scavi nel 1907, ebbe inizio nel 2017 in base a una collaborazione tra il Parco archeologico di Pompei, come ente competente per la tutela dell'area circostante la città antica, e la procura della Repubblica di Torri Annunziata, che insieme ai carabinieri aveva scoperto un'annosa attività di scavi clandestini nell'area della villa, poi sgominata e perseguita sia penalmente che civilmente. Sappiamo che i proprietari usavano diversi privilegi, tra cui anche la possibilità di formare una famiglia, seppur senza alcuna tutela legale, per legare alcuni schiavi più strettamente alla villa, anche con le finalità di averli come alleati nel sorvegliare gli altri, rivela il direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Truk Trigel. Quello che emerge qui è la struttura sociale della servitù, che doveva impedire fughe e forme di resistenza, anche perché mancano tracce di grate, lucchetti e ceppi. Pare che il controllo avveniva principalmente tramite l'organizzazione interna della servitù e non tramite barriere e vincoli fisici.